E bentornati cari amici, dopo la pausa estiva eccoci qui con un nuovissimo appuntamento della vetrina dell'auto. Abbiamo lasciato gli ombrelloni per correre qui in Center Milano in via PTT8, angolo via Certose, allora andiamo subitissimo a scoprire le nuove offerte. Ciao Sara, ciao Mauro. Ciao Arianna. Ciao Arianna, come sono andate le vacanze? Bene, purtroppo sono già finite, quindi fatemi felice e raccontatemi qualcosa di bello, le novità. Ah, ne abbiamo una bellissima, l'abbiamo studiata proprio pensando alle vacanze, si chiama Seat senza pensieri. E di cosa si tratta? Andiamo a vedere la Mi che te lo spiego bene. Va bene. Con Nuova Seat Mi entri in un mondo nuovo e pieno di opportunità. Nuova Seat Mi è una vettura dove tecnologie avanzate e consumi ridotti si incontrano, una city car che rende la tua vita più completa. Potrai scegliere tra una versione 3 o 5 porte. Inoltre, Nuova Seat Mi vanta una dotazione multimediale di ultima generazione, il Seat Portable System. In un unico dispositivo riunisce navigatore satellitare e Bluetooth, lettore radio CD MP3 e computer di bordo. Molto, molto comodo. La Nuova Mi è la macchina ideale per la città e oggi possiamo averla a un prezzo eccezionale, 7.900 euro. Ma Mauro, 7.900 euro completa di tutto? Certo, perché a questo prezzo diamo in omaggio il climatizzatore manuale e il color pack. Beh, incredibile davvero. Assolutamente. Riusciamo a farlo grazie a un vantaggio per il cliente di 2.300 euro. E per quanto riguarda, Mauro, la formula Seat senza pensieri? Ma Arianna, è un finanziamento particolarissimo perché consente al cliente con 4 euro al giorno di acquistare l'auto senza pensieri. In che cosa consiste? All'interno di questa formula abbiamo incendio e furto per 4 anni e manutenzione ordinaria per 4 anni. Una cosa eccezionale. Davvero possiamo dire senza pensieri? Assolutamente sì. E le novità non finiscono perché oggi la Nuova Mi possiamo averla anche nella versione 5 porte. E per avere la Nuova Seat Mi 5 porte? Soltanto 500 euro in più. Beh, incredibile. Abbiamo iniziato con una grande offerta, proseguiamo e andiamo a vedere le altre. Esatto. Mauro, questa è la Nuova Ibiza? Esatto. Questa è l'Ibiza più performante, efficiente e sicura di sempre. E oggi la possiamo avere a 9.200 euro. Solo 9.200 euro? Completa di tutto? Certo, perché a questo prezzo diamo in omaggio climatizzatore semiautomatico, fari fendinebbia, specchietti elettrici, telecomando per la chiusura centralizzata, grazie a un vantaggio cliente di 3.650 euro. E in questo caso possiamo parlare di formula finanziaria esclusiva? Ovviamente sì. Abbiamo sempre finanziamenti tassi agevolati e tassi zero in 48 mesi con due anni di incendio e furto in omaggio. Mauro, so anche che esiste la versione 5 porte, è corretto? Assolutamente, per tutti i clienti e per tutte le esigenze. Ma non dimentichiamoci che c'è anche la versione ST con un bagagliaio di ben 430 litri di capienza e le motorizzazioni sono per tutti i gusti, benzina, diesel, GPL. Arianna, voglio farti vedere un'altra strepitosa offerta. E di cosa si tratta Mauro? Parliamo di Leon Limited Edition, 1.6 turbodiesel a 15.450 euro, la vettura meno cara nel suo segmento. A questo prezzo tutto compreso? Ovviamente sì. C'è chi lega, climatizzatore, radio, fendinebbia, full option, grazie a un vantaggio cliente di 4.000 euro. Ma devo dire che qui da Center Milano ci sono delle grandissime opportunità. Assolutamente, come hai potuto notare, forse è anche meglio fare un riassunto per i nostri clienti. Benissimo. La grande novità, Seat senza pensieri, 4 euro al giorno per acquistare la tua nuova Mi, compreso di 4 anni di manutenzione, 4 anni di incendio e furto, per una Mi 3 o 5 porte a partire da 7.900 euro. Ibiza a partire da 9.200 euro, 3 porte, 5 porte, versione station wagon, con la possibilità sempre di finanziamenti, tassi agevolati o tasso 0 in 48 mesi con 2 anni di incendio e furto in omaggio. E Seat Leon, 1.6 turbodiesel, 15.450 euro. la meno cara del suo segmento. È arrivato il momento anche di parlare dell'usato. Certo, perché a Center Milano possiamo trovare l'usato del gruppo Audi, Seat, Volkswagen e Skoda, vetture solo aziendali usate dai dipendenti con dei prezzi vantaggiosissimi. E ora andiamo a vedere qualche esempio. Certo. Volkswagen Touran 2000 TDI 140 CV dell'ottobre 2011 con 4.000 km a 23.350 euro. Audi A3 1.6 TDI 105 CV Ambition del settembre 2011 10.600 km a 20.850 euro. Volkswagen Golf Variant TDI DPF Comfortline dell'ottobre 2011 con 19.000 km a 17.900 euro. Skoda Fabia 1.2 5 porte Ambition ottobre 2011 7.800 km a 8.700 euro. Audi A3 2.0 TDI con filtro antiparticolato S-Tronic Ambition del luglio 2011 a 10.000 km a 27.300 euro. Seat Altea Free Trek 2.0 TDI 4 ruote motrici settembre 2011 15.500 km a 19.650 euro. Audi A3 Cabro 2000 TDI con filtro antiparticolato Ambition del maggio 2011 con 14.000 km a 26.500 euro. Mauro e oltre all'usato? Abbiamo delle fantastiche offerte a chilometri zero e pensa con la possibilità di avere un finanziamento tasso zero. E quindi non vi resta altro che venirci a trovare. E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, vero Sara? Purtroppo sì, ricordiamo però ai nostri clienti che saremo aperti anche sabato 22 e domenica 23 settembre. Allora vi aspettiamo numerosi. Ciao Sara, ciao Mauro, grazie a tutti voi per essere stati con noi e alla prossima! Grazie a tutti!